La cosa probabilmente più significativa delle ultime settimane è la riforma fiscale. È la prima a partire tra le grandi riforme che ci siamo presi l'impegno di portare avanti per liberare le energie di questa nazione, per costruire un sistema più giusto, un sistema più efficace, più efficiente. Questa riforma riguarda le tasse, riguarda il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. Abbiamo licenziato nel Consiglio dei Ministri la legge delega che tra i tipi di strumenti normativi è come se fosse una specie di cornice e abbiamo 24 mesi massimo per completarla con i decreti che saranno necessari. Alla fine di questo lavoro noi avremo un fisco completamente nuovo dopo 50 anni dall'ultima riforma che è stata fatta su questa materia. In pratica l'ultima riforma che è stata fatta sul fisco è stata fatta prima che io nascessi. Quali sono gli obiettivi che ci diamo con questa legge delega? Primo e più importante, abbassare le tasse per tutti. Ovviamente con particolare attenzione ai redditi bassi e medi con una progressiva riduzione delle aliquote IRPEF che immaginiamo di produrre. Secondo, mettere ordine a quella giungla di detrazioni, deduzioni, esenzioni, crediti d'imposta che costano allo Stato italiano ogni anno circa 125 miliardi di euro. Terzo, vogliamo incentivare il lavoro e sostenere i salari che spesso, come sappiamo, sono troppo bassi. Quindi immaginiamo da una parte, ad esempio, l'introduzione anche per i lavoratori dipendenti sul modello di quello che abbiamo già fatto con la legge di bilancio sui lavoratori autonomi di una tassa piatta sugli incrementi di salario rispetto all'anno o agli anni precedenti. Un sistema con il quale abbiamo già detto agli autonomi e vogliamo dire ai dipendenti, come abbiamo fatto per le imprese. Se in un momento difficile tu lavori e produci di più, lo Stato vuole riconoscerti quello che hai fatto con una tassazione bassa e piatta. Dall'altra parte abbiamo immaginato, immaginiamo di abbassare gradualmente l'IRES, cioè l'imposta sul reddito delle società, a una condizione. A patto che quello che le società pagheranno di meno con una riduzione dell'IRES venga investito soprattutto in nuove assunzioni a tempo indeterminato. È in buona sostanza l'applicazione del famoso principio più assumi meno tasse paghi, più è alta l'incidenza di mano d'opera che hai, il rapporto al tuo fatturato meno tasse dovrai allo Stato. Lo Stato ti riconosce se per fare quel lavoro, se per lavorare, aiuti anche maggiore occupazione, aiuti anche gli altri a lavorare. Quarto, vogliamo costruire un rapporto completamente diverso tra il fisco e il contribuente, perché il contribuente deve tornare a essere trattato come un cittadino e non più come un suddito. Noi vogliamo riscrivere lo statuto del contribuente, vogliamo dare equità e certezza a chi paga le tasse, vogliamo semplificare e vogliamo ovviamente contrastare l'evasione fiscale, ma con la collaborazione dei contribuenti, invece che investendo tutto sulla vessazione, sulla repressione. Cioè nessuno mi toglie dalla testa che il modo più efficace per combattere l'evasione sia avere tasse giuste, chieste da uno Stato giusto, uno Stato che dimostra di essere tuo alleato e non un tuo nemico. Del resto ci sarà una ragione se negli ultimi anni noi abbiamo preso provvedimenti sempre più restrittivi, ma fondamentalmente il livello della nostra evasione fiscale è rimasto sempre attorno ai 100 miliardi di euro l'anno. Evidentemente la repressione basta, non funziona. Evidentemente l'approccio deve essere un approccio diverso, cioè fondato sulla responsabilità. Quinto, ovviamente di contro, intendiamo essere più efficaci nella individuazione di chi, nonostante tutto questo, cioè nonostante le tasse vengono abbassate, nonostante ci sia un altro rapporto con il fisco, nonostante uno Stato alleato, intendesse evadere il fisco lo stesso. E per fare questo in particolare intendiamo utilizzare molto meglio le banche dati delle quali ovviamente lo Stato già dispone, proprio perché lo Stato sarà più giusto, proprio perché le tasse saranno più eque, allora dobbiamo anche essere rigidi verso chi dovesse fregarsene di questo sforzo. Approfitto su questo tema per fare una precisazione. Nell'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri di questa settimana, c'è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso aperto con il fisco, proroghiamo fino a settembre-ottobre, fino all'autunno. E per quello che ci riguarda un altro passo verso la tregua fiscale, c'è anche una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le attuali norme penali. Ora, poiché è stata fatta su questo tema molto polemica e molta confusione, particolarmente per il caso di chi ha un contenzioso con lo Stato per omesso versamento e l'opposizione dice che noi abbiamo introdotto un condono tributario penale, perché noi i condoni non ne facciamo, vorrei dire che questo è banalmente falso. Noi, che abbiamo previsto con la tregua fiscale una rateizzazione per i pagamenti di chi vuole adeguarsi, ci limitiamo semplicemente ad adeguare questa norma, stabilendo che il processo rimane sospeso fino a quando l'Agenzia delle Entrate non dice, non conferma, che le rate che devi pagare le stai pagando regolarmente. Quindi, tanto per cambiare, diciamo, facciamo chiarezza sulle molte cose false che per la verità sento dire in giro contro il Governo, ma che poi non corrispondono a verità. Tornando alla riforma fiscale, in buona sostanza abbassiamo le tasse, semplifichiamo la vita di imprese e lavoratori, investiamo sul merito e su un'alleanza tra cittadini e istituzioni e incentiviamo il lavoro.